Una serata di festa, di orgoglio e di prestigio, il gol di Insigne a Liverpool, la vittoria del Napoli rovinata dal furto, che la mente criminale ha progettato nei minimi dettagli allo store e la biglietteria ufficiale del Napoli Calcio, dell'ADV Caidos, in Viat Zoria, Nocere Inferiore. Un colpo scientifico, studiato a tavolino da parte di professionisti del furto, ha detto Antonio Giuliano, uno dei titolari di Caidos. Portato via, materiale ufficiale del Napoli Calcio, per un valore di circa 50.000 euro, e l'incasso dei biglietti di Napoli Sassuolo, prossima partita di campionato, per un totale di quasi 9.000 euro. Questa una prima ricostruzione dei fatti. I malviventi, approfittando della giornata di chiusura del locale Wild West, sempre della Caidos, che si trova praticamente a fianco allo store del Napoli, e vista la poca gente in giro, erano tutti in casa a vedere la partita di Champions tra Napoli e Liverpool, sarebbero entrati dal lato dell'Istituto Tecnico Industriale, oscurando poi le telecamere del negozio e, a quanto pare, anche quelle della scuola. È stato rotto un vetro, i malviventi sono poi penetrati all'interno dello store del Napoli di Caidos, disattivando immediatamente anche l'antifurto dell'Istituto di Vigilanza, che si occupa del controllo dell'esercizio commerciale. La banda, perché il colpo non può che essere opera di un gruppo di criminali specializzati, ha fatto razzia dei prodotti ufficiali del Napoli, in particolare quelli nuovi appena arrivati. Completini ufficiali, anche quelli per i bambini più piccoli, gadget e tutto ciò che riguarda il marchio Napoli è stato portato via quasi nella sua totalità, per un valore, come si diceva, di oltre 50.000 euro. Poca merce è rimasta all'interno della struttura, anche se Giuliano si è affrettato a dirci telefonicamente che già da stamane gli scaffali sono stati di nuovo riempiti con altri prodotti appena giunti, perché questo episodio non ci fermerà nonostante il grave danno. Tra l'altro, Caidos non era coperta da assicurazione, ma i malviventi erano a conoscenza, probabilmente che all'interno dello store c'era anche l'incasso della tre giorni di vendita dei biglietti per Napoli Sassuolo. Stamane avrei dovuto effettuare il bonifico alla società, ha detto Giuliano. Insomma, per la Caidos una batosta non da poco, al di là dell'immediata voglia di tornare alla normalità. Sul posto sono giunti, dopo la scoperta della vigilanza, i carabinieri di Nocera Inferiore che stanno procedendo alle indagini. Si spera di riuscire a cavare qualcosa di importante dalle immagini di altre telecamere, specie quelle presenti nella scuola, dalle quali si potrebbe vedere il volto di alcuni dei criminali. Erano esperti anche in tecniche di videosorveglianza, oltre che di furti, perché è stato elaborato tutto a livello scientifico, hanno detto i vigilantes ai titolari della Caidos. Grazie. 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 Grazie.